Giornata davvero memorabile quella di oggi, 22 marzo 2019, in un vertice infatti tra Italia e Cina. Il presidente Xi Jinping infatti si trova a Roma, capitale d'Italia, con la moglie, la capitale è stata letteralmente blindata, è arrivata al Quirinare dove si sta tenendo questo incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, poi vanno a ricevere i rappresentanti del business forum, del forum culturale, del forum sulla cooperazione nei paesi terzi. La macchina di Xi è stata letteralmente scortata all'interno del palazzo del Quirinare da parte dei corazzieri che si trovano a cavallo. La cerimonia di benvenuta al Quirinare, ospitata proprio da Mattarella in onore di Xi Jinping, è stata trasmessa in diretta streaming dalle diverse televisioni di Pechino in Cina, tra cui la CGTN, network di lingua inglese della statale CCTV. Vi ringrazio per l'ascolto di questo video di oggi, dunque un colloquio importante, in un vertice altrettanto importante tra Italia e Cina, al Quirinare e dal Sergio Mattarella, vi ricordo che è l'attuale presidente della Repubblica Italiana. Iscrivetevi, se vi va, commentate, datevi la vostra opinione e cordiali salutoni. Al prossimo video da narratore italiano.